È notte ma le Iene non dormono, siamo dinanzi alla direzione Arcelor Vittal, ex Ilva, con le Iene, con Alessandro Misarno, una puntata, quella di martedì 13 aprile, ore 21.10, Italia 1, si parlerà del licenziamento dell'operaio Riccardo Cristello, che ha avuto solo la colpa di condividere una posta, cercava di proficizzare la fiction, la sveglia di amore mio, parlava dei dati gravi relativi al licenziamento, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Da evidenziare le immagini che hanno fatto proiettare le Iene dinanzi alla direzione Arcelor Vittal, immagini aventi ad oggetto manifestazioni ambientaliste e le dichiarazioni di Ricchi Tognazzi e Simona Izzo, con riferimento a quest'incredibile licenziamento. Alessandro, un doveroso ringraziamento per quello che state facendo a nome di tutti i Tarantini, sono io che vi ringrazio e ti do questo microfono che è pesantissimo, se tentano di strapparlo alla mano tu daglielo in testa questa volta, mi raccomando. Viva la libertà, viva le Iene!